Musica Questo evento ci rappresenta, la musica è energia, sono onde sonore che arrivano, divertono, emozionano e così come siamo noi Enel, Arezzo è una città importante per noi, ci teniamo, siamo presenti in Arezzo con due negozi a Via Garibaldi e a Via Vittorio Veneto e vogliamo essere sempre più vicini alle persone e lo esprimiamo anche in questo modo comunicando di noi con la musica Parte da Arezzo il 19 luglio l'Enel Energia Tour, iniziativa che porterà la musica italiana in cinque città Paolo Fresu con il Devil Quartet saranno i protagonisti della tappa aretina Un'altra bella opportunità per Arezzo, speriamo che i nostri aretini rispondano bene come stanno rispondendo a tutti gli eventi ai quali l'amministrazione comunale dà sempre più gambe A salire sul palco, anzi sul round, all'interno del Parco Pertini, anche l'orchestra instabile di Arezzo La serata sarà aperta dal DJ set e artisti della scena musicale aretina Il round è uno spazio pubblico prima di essere semplicemente un palco è qualcosa che serve per poter attivare le energie del territorio In questo caso avviterà lo spazio del Parco Pertini dal pomeriggio alle cinque e mezzo fino alla sera con l'ultima esibizione Abbiamo avuto la possibilità di programmare degli artisti veramente di eccezione da Paolo Fresu anche a Calab Cappellato di Barè e poi una ricchezza fantastica da cui abbiamo attinto che è quella della città presente con Oida, con Spazio Seme e con le sue realtà più vive Grazie